E' fissata per domenica 3 agosto la partenza degli ultimi tre frati minori dell'Ordine dei Francescani che secondo la regola del santo patrono d'Italia non possono appropriarsi di nulla, né casa, né luogo, né di alcuna cosa. Lo hanno scritto in una lettera indirizzata ai fedeli abituati a frequentare la piccola e graziosissima chiesa di San Gaetano, recentemente ristrutturata. Un autentico gioiello artistico nel cuore di Brescia che i frati gestivano insieme al convento. Fra Paolo, Fra Luigi e Fra Michele verranno trasferiti in altri conventi perché la carenza delle vocazioni non permette ai frati minori di gestire tutte le strutture presenti sul territorio. Resta invece la scuola, il liceo scientifico linguistico privato Alessandro Luzzago che manterrà un frate nella figura del rettore ma che verrà gestita dalla fondazione intitolata lo storico rettore della scuola Padre Semplicio costituita dagli ex alunni. Brescia però perde un pezzo della sua storia e non solo, come conferma questa volontaria del servizio mensa. Certamente è una grande perdita, non solo per noi perché sono stati un punto di riferimento perché con loro abbiamo anche creato un clima di grandissima familiarità proprio, ma per i poveri stessi che vengono qui e la figura del frate ha sempre catalizzato la loro attenzione perché non solo vengono per la distribuzione dei panini ma molto spesso, come dire, si confidano con loro, aprono il loro cuore. Il servizio dei volontari non si ferma ma si sposterà in piazza Moretto 3. Sì, sicuramente le parrocchie, alcune parrocchie del centro storico ci hanno assicurato la fornitura indispensabile per poter far fronte a questa emergenza e noi comunque continueremo a dare la nostra opera, il nostro contributo, mantenendo persino i turni che già avevamo fissato qua dai frati. Io ad esempio vengo ogni lunedì mattina insieme a mio marito a preparare questi panini e a fare la distribuzione. Intanto però con i loro tipici sandali sempre a piedi i francescani si accingono a salutare Brescia.